Mettere a disposizione ai cittadini il calore senza inquinamento inciderebbe enormemente su quello che è l'emissione di CO2, su quello che sono gli obblighi che poi dobbiamo portare avanti per il 2020 che l'Europa ci sta mettendo nel 2020. Un'energia pulita e rinnovabile che potrebbe fare la differenza sia per abbattere l'inquinamento sia per dare una scossa all'occupazione. Di questo si parla nella due giorni a retina alla Casa dell'Energia. Le nuove tecnologie legate alla geotermia vedono in Toscana la presenza di importanti aziende e di comuni che hanno deciso di abbracciare queste potenzialità. Oggi sono il primo a rientrare in pista dicendo che invece con i nuovi criteri geotermici della possibilità di reimmissione, quindi con emissioni zero e reemissioni complete di tutte le sostanze possibili inquinanti, si avvia veramente un nuovo futuro. L'Italia ha migliaia di pozzi esausti dell'era del petrolio che pescano a profondità tale per cui c'è sempre il calore molto elevato e quindi costruire reti di teleriscaldamento o produzione geotermelettrica a partire da quei pozzi ci consente di dare la risposta ad esempio all'intera pianura padana che è il posto più inquinato a livelli ormai della Cina. Accanto all'impianto geotermico che sia per generazione di elettricità e calore possono nascere delle attività produttive e questo come la serricoltura per esempio o addirittura il termalismo, due attività da una parte agricola all'altra turistica ma non dobbiamo dimenticare che in Italia il know-how per la geotermia è davvero importante e quindi la filiera tecnologica che va dalla perforazione alla costruzione di impianti può essere tutta made in Italy e questo lascia presagire che i posti di lavoro che si potrebbero creare sono davvero numerosi.